Ciao, buonasera a tutti, siamo Alessandro e Alessandro da Castel San Pietro Terme, provincia di Bologna e siamo ballerini del Ballando Ballando Group. E quindi cosa ballate voi due insieme? Abbiamo un ballo tipico bolognese che riporta le origini del passato di Bologna, questo ballo veniva ballato sotto i portici fino a Piazza Aldrovandi per chi conosce Bologna e facevano le gare tra le coppie dei ballerini, si balla uomo uomo perché all'epoca le donne non andavano nelle ballere. Stavano a casa a far da mangiare e a pulire, invece gli uomini bastardi andavano a ballare. Quando hanno iniziato... Quando hanno iniziato ad andare nelle ballere gli uomini hanno continuato a fare questo ballo come prova di forza per conquistarle. Ma bisogna chiamarsi anche nello stesso modo per fare questo ballo? È tutto programmato, tutto programmato. Senti, e come si chiama questo ballo? La polca chinata. Cento secondi, il palco è vostro. Cento secondi, il palco è il palco è il palco. Cento secondi, il palco è il palco è il palco. Cento secondi, il palco è il palco è il palco. Cento secondi, il palco è il palco è il palco. Alessandro e Alessandro vi aiuteranno. Già per mano, eh, vi vedo già bene. C'è qualche suggerimento particolare? Preparazione fisica, allenamento e convinzione psicologica di arrivare in fondo Beh dai L'ultima c'è Allora, aspetta, musica però Ma perché non fate uno con Claudio e uno con... Frank! Oh, non vanno giù eh! Quindi tanto non vanno giù! Vai ci sentire che... Bravi! Che bel momento di televisione! Per me sì comunque Certo che girare in tondo così è difficile Mentre giri avere così vicino la faccia di Claudio... Votiamo! Il mio voto è sì! Grazie! Claudio! No io dico... Sì! Sì! Grazie! Nina! Io vi dico di sì! Grazie! Frank! Alessandria, Alessandro io sono pazzo di voi quattro sì! Quattro sì! Grazie mille! Grazie! 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 Qu